Le città del mondo di Elio Vittorini. Come potete vedere, utilizziamo soprattutto, magari per qualche notizia sulla biografia di Vittorini, un lavoro fatto da un alunno di una classe quinta, Tommaso Ghirardini. Infatti, prima di parlare di questo romanzo, Le città del mondo, vogliamo dire qualcosa su Elio Vittorini, che è stato un intellettuale importante, non solo nel secondo, ma anche nel terzo novecento. Intendiamo, sulla scia del professor Langella, il nostro manuale letteratura.it, il secondo dopoguerra, l'epoca del ventennio fascista, l'epoca in cui era molto difficile cercare di esprimere un certo dissenso rispetto al potere, ma ci riuscirono, a loro modo, gli intellettuali di Solaria, di cui faceva parte Vittorini. E l'epoca del terzo novecento, quella dell'impegno, che va dal 46 fino a 78. E anche in questa epoca Vittorini fu protagonista. Egli nacque nel 1908 a Siracusa da una madre siracusana e da un padre di origine bolognese. Dopo aver frequentato svogliatamente la scuola di ragioneria ed essere fuggito di casa per ben quattro volte, nel 1924 lascia definitivamente la Sicilia. Infatti non voleva fare il ragioniere come voleva suo padre, ma tra l'altro erano anche gli anni in cui c'era la riforma gentile della scuola del 1923 e lui addirittura si mise ad occupare l'istituto. Aveva infatti delle attitudini anarcho-socialiste, diciamo, in quegli anni antifascisti, in quegli anni l'anno, in anni appunto del secondo ventennio del novecento, anzi nel terzo ventennio del novecento, insomma i primi anni dopo la seconda guerra mondiale. Il giovane Vittorini appunto a scuola manifestava segni di insofferenza e quindi anche in confronti della famiglia, non solamente della scuola. Si fece cacciare da scuola e si lasciò definitivamente la Sicilia nel 1924, si sposò con un rito civile con la sorella del poeta Salvatore Quasimodo e si trasferì in Friuli, quindi Friuli-Venezia-Giulia, poi nel 1930 a Firenze, dove inizialmente lavora come correttore di bozze, poi a Milano nel 1939. Sono molto importanti gli anni in cui rimane a Firenze, perché là inizia a pubblicare dei racconti e poi degli articoli, ovviamente dicevamo, su Solaria, questa rivista che era una rivista abbastanza innovativa e trasgressiva, insomma, nei confronti del regime. Dopo vedremo una fotografia con Montale, che conobbe in quegli anni là di Solaria, e soprattutto scrisse il romanzo di formazione Il Garofano Rosso, che era molto importante anche questo, perché mostrava come protagonisti dei giovani, anche questi trasgressivi, nei confronti dei loro genitori o delle tradizioni imposte, e quindi anche questo romanzo, insomma, in nuce almeno, aveva qualche elemento di lotta, di combattimento. Nel 1931, a causa di un'intossicazione da piombo, fu costretto ad abbandonare il posto di correttore di bozze e visse solo delle sue traduzioni dall'inglese. Sempre, ecco, le altre cose che scrive, dicevamo, a Firenze, ci interessano di meno, ci interessa di più questo romanzo del Garofano Rosso, e poi eventualmente quella antologia americana di poesia che testimonia della sua apertura mentale e intellettuale alla letteratura americana, nordamericana, che allora poteva rappresentare un mezzo, uno strumento, attraverso il quale svecchiare la cultura italiana. Ecco, ci interessa invece poi quello che fa nel 1941, quando pubblica in volume un romanzo che aveva però già pubblicato a puntate, in rivista, che è Conversazione Sicilia. Quindi, dal 1936 al 1939 lo pubblica a puntate, nel 1941 lo pubblica come volume. Questo romanzo è un romanzo molto importante, perché in questo romanzo c'è una critica latente, per quello che era possibile fare in quegli anni che erano anni del fascismo, del regime. Lui, del resto, fino al 1936, come vedremo, approfondiremo il discorso, aveva anche aderito al fascismo, ma in un modo tutto suo. E' il cosiddetto fascismo eretico, di sinistra. Aveva pubblicato anche degli articoli sul Bargello, la rivista ufficiale del fascio fiorentino. Quando però poi, nel 1936, si è, beh, la fine della guerra d'Etiopia, ma soprattutto poi la partecipazione del regime alla guerra civile in Spagna, a fianco del generalissimo Franco, lui si distaccò definitivamente dal fascismo, di destra o sinistra che fosse, e aderì al partito comunista clandestino. E, come stavamo dicendo in questo romanzo, veratamente autobiografico, conversazione in Sicilia, attraverso il personaggio del Gran Lombardo, che durante un viaggio in treno parla di astratti furori, esprime il desiderio che avevano molti giovani all'epoca, insieme con Vittorini, che è quello di appunto un desiderio vago e, ripeto, che non si poteva esprimere così dettagliatamente ed esplicitamente di cambiare le cose, di cambiare la società. Ecco cosa sono questi astratti furori. questo inizio, tentativo, sogno di cambiare il mondo, perché, così com'era la società italiana sotto il regime, non poteva andare bene a Vittorini. Oltre ad essere il direttore della collana La Corona, Vittorini si dedicò... Ecco, sì, attenzione, andiamo con ordine. Dobbiamo dire che, ovviamente, lui entrò attivamente nella resistenza, e quindi fu antifascista e, diciamo che, ovviamente, il Partito Comunista da clandestino che era, prima, diventò Partito Comunista Italiano e lui aderì convintamente al Partito Comunista e entrò a far parte della redazione della casa editrice Einaudi, non solo, perché poi collaborò anche con la Bonpiani e con la Mondadori, però, per lei Einaudi, dicevamo, ecco, sì, ne avevamo già parlato prima, scrisse l'antologia di scrittori statunitensi americana. Nel 1945 fu il direttore dell'edizione milanese dell'Unità, pubblicò il romanzo ispirato alle sue esperienze partigiane Uomini e No. Ecco, Uomini e No è un romanzo importantissimo perché completa un pezzo, insomma, di quella che è la narrativa sulla resistenza, poiché ci fa capire cosa accadeva nelle città, laddove i partigiani operavano in un modo diverso, attraverso lo strumento ad esempio dei GAP, questi gruppi di azione, quindi attraverso attentati, per esempio, contro il regime nazifascista. dicevamo completa il quadro della lotta partigiana perché gran parte dei romanzi o dei racconti che abbiamo letto sulla resistenza invece ci raccontano quello che avviene sulle montagne e sulle colline, ad esempio quanto raccontato da Fenoglio in una questione privata del partigiano Johnny riguardo le colline delle langhe anche Pavese comunque ha descritto quello che avveniva sulle colline torinesi ad esempio nella casa in collina durante la guerra della resistenza e Calvino invece sulle alture sopra Sanremo nel suo romanzo Il sentiero dei nidi di ragno oppure nei racconti della raccolta Ultimo viene il corvo qui invece dicevamo I partigiani in città importantissimo quindi questo romanzo poi fondò la rivista culturale Il Politecnico nel 1947 pubblicò altri romanzi che ci interessano di meno fu convocato poi dai naudi nel 1951 per dirigere la collana ai gettoni attenzione quindi che l'antologia di scrittori statunitensi americana fu una cosa che avvenne prima di questo suo lavoro presso le naudi ecco dal 1952 al 1955 lavorò al romanzo Le città del mondo rimasto incompiuto e pubblicato postumo dei naudi è il romanzo che è l'argomento principale di questa nostra lezione nel 1959 fondò la rivista Menabò che diresse con Italo Calvino poi vabbè fece manifesti di protesta contro la guerra e le torture in Algeria intorno al 1960 nel 1963 si ammala di cancro lo stomaco subisce una delicata operazione per estirpare questo tumore nel 1965 il cancro apparentemente sconfitto si manifesta invece in forma inoperabile è ancora più aggressiva nel 1966 quindi a causa di questa grave malattia Vittorini muore nella sua casa di Milano e qui lo vediamo come già anticipato in un fotogramma insieme con Eugenio Montale ecco due cose da dire riguardo il rapporto fra Vittorini e la politica alcune le abbiamo già dette cioè il fatto che inizialmente Vittorini si schiera con il partito fascista però il partito a causa della censura sembrava quasi ostacolare il lavoro di Vittorini che pian piano si scostò dalle idee ortodosse diciamo del partito come abbiamo già detto aderendo ad una fazione un po' radicale del fascismo cosiddetto fascismo eretico di sinistra e qui possiamo fare riferimento invece a Pratolini per questa perché ci fu un gruppo proprio di fiorentini ecco che o comunque lì a Firenze che si espresse in questo modo cioè un tentativo di accentuare gli aspetti di cambiamento sociale no anche magari operando quantomeno per un certo periodo all'interno del partito fascista con con l'illusione di poter fare di poter realizzare questo cambiamento sociale all'interno del partito l'effettivo abbandono del fascismo avvenne però nel 1936 a seguito della presa notizia circa la guerra in Spagna Vittorini insieme appunto dicevamo all'amico Pratolini progettò di raggiungere i repubblicani spagnoli e scrisse un articolo sulla rivista Il Bargello nel quale spronnava gli italiani ad appoggiare i repubblicani spagnoli contro Franco cosa che ovviamente il partito non prese troppo bene nel 1942 si avvicinò ma anche prima insomma al partito comunista clandestino partecipò a numerose manifestazioni divenne membro effettivo del partito comunista ciò nonostante Vittorini abbandonò anche il partito comunista in seguito a un diverbio con il leader Palmiro Togliatti nel senso che come abbiamo spiegato all'inizio addirittura scrisse sull'unità poi come dire fondò la rivista del Politecnico che era strettamente collegata anche con il partito comunista nel senso che era una rivista anche di iniziativa sociale negli anni dell'immediato secondo dopoguerra solo che a un certo punto Palmiro Togliatti criticò questa rivista perché a parer suo non supportava sufficientemente le azioni del partito comunista a questo punto Vittorini si smarcò da Togliatti e quindi dal partito comunista spiegando che il loro dell'intellettuale non è quello del piffero della rivoluzione potremmo dire o comunque succube dell'ideologia del partito ma intellettuale per sua natura è libero deve essere libero e autonomo e quindi portò avanti questa libertà e questa autonomia addirittura uscendo dal partito comunista come stavamo dicendo approdando nell'ala radicale del partito socialista italiano oppure in altri periodi proprio decidendo di non aderire più a nessun partito e di fare parte per se stesso ma è arrivato il momento finalmente di parlare delle città del mondo di fatto abbiamo già introdotto il discorso dicendo che essenzialmente questo romanzo è stato scritto tra 52 e 55 e poi è uscito postumo ma dobbiamo dire anche alcune cose importanti interessanti proprio sul Politecnico nel 1946 che potremmo definire così l'anno dell'utopia l'anno del sogno di una società nuova e più giusta l'anno del referendum per la Repubblica l'anno in cui Vittorini insieme a tanti altri intellettuali pensava finalmente di poter realizzare quella società più giusta di fare insomma la rivoluzione che aveva sempre avuto in mente anche se poi negli anni successivi lui insieme ad altri e molti altri intellettuali andò incontro ad una delusione perché le cose non andarono esattamente come lui aveva previsto comunque in quell'anno scrisse degli articoli pubblicati sulla sua rivista il Politecnico articoli dedicati a questo tema il tema della città potremmo dire quasi della città ideale e paradossalmente parlando di questa città ideale quindi anche in questo caso di questo sogno quasi utopico di una città da realizzare anche in Italia il sogno di una società nuova egli presenta due modelli singolari soprattutto perché sembrano a noi quasi antitetici ma adesso vedremo perché ce li presenta questi due modelli sono New York e Chartres New York perché ecco lui la la definisce così la babele compiuta sappiamo infatti che nella bibbia qui potete vedere un'illustrazione un dipinto famoso famosissimo di Peter Bruegel il vecchio della torre di babele sappiamo dicevamo che la torre di babele rimase incompiuta perché a un certo punto appunto si dice nella bibbia Yahweh si arrabbiò con gli uomini che volevano costruire questa torre che arrivava fino al cielo e li condannò all'incomunicabilità nel senso che i costruttori di questa torre di babele non riuscirono più a comunicare fra di loro con un unico codice perché parlavano lingue diverse ecco dicevamo invece che per Vittorini questa immagine della babele non è così negativa solamente non è compiuta e lui vede nella città di New York la babele compiuta perché anche a New York si trovano persone provenienti da svariati paesi nazioni e che quindi originariamente almeno parlavano lingue diverse pensate per esempio agli italiani che popolarono insomma negli anni a cavallo fra l'800 e l'900 la città di New York arrivando a numerosissimi ad avere anche addirittura dei quartieri interi in questa città o a tantissime altre etnie che provenivano da svariati continenti soprattutto dall'Europa comunque effettivamente a come dire a ingrossare le fila di questa città che era quella che accoglieva proprio anche perché proprio per la storia insomma della navigazione degli immigranti degli immigrati accoglieva questi immigrati italiani e non solo faceva loro vivere un'esperienza che potremmo definire oggi un'esperienza multietnica nel senso che lì in quella città effettivamente convivevano persone di etnie diverse esempio anche persone provenienti da paesi in cui si parlava lo spagnolo o il tedesco o appunto l'italiano invece che solamente persone di origine persone anglofone e quindi lui esalta questa città proprio per questa convivenza pacifica fra uomini ad esempio di cannagione bianca e di cannagione nera ecco il motivo per cui esalta New York invece il motivo per cui esalta Chartres è il fatto che insomma in questa città la città di Chartres al centro della città c'è una bazzia e c'è una campana e questa campana segna le ore della giornata indicando la scansione della preghiera e del lavoro secondo la regola benedettina ora et labora e quindi esalta come vedete due città molto diverse fra di loro per dire però di come una città può essere può realizzare un sogno di convivenza degli uomini in un modo piuttosto che l'altro e allora fa una cosa di questo genere anche nel romanzo le città del mondo il romanzo però lui non lo pubblicò mai perché non fu soddisfatto di questo romanzo e quindi incompiuto ecco lo spunto gli venne da un viaggio nella Sicilia alluvionata nell'ottobre del 1951 e prima ancora dai rilievi del febbraio 50 effettuati con Luigi Crocenzi per scattare le foto per l'edizione illustrata di conversazione in Sicilia quindi ritornò nella sua regione di origine perché abbiamo detto che lui è siracusano ritornò appunto in Sicilia e ritornando in Sicilia poi riversò questo ricordi di questo viaggio in questo romanzo e scrisse tanti pezzi tanti capitoli sono 40 capitoli ecco essenzialmente che poi fanno parte di questo libro pubblicandoli in rivista ecco chi sono i protagonisti di questo romanzo sono quattro coppie di persone che sono coppie di personaggi spesso antitetici l'uno rispetto all'altro come vedremo appunto nella prima coppia che è quella che noi conosceremo meglio che è quella di Rosario e di suo padre la prima coppia dicevamo è Rosario che è un piccolo pastorello e suo padre loro spingono avanti il loro greggio in cerca di nuovi pascoli perché vogliono vendere il formaggio nelle varie città e non si fermano mai in nessuna città e il brano che leggeremo oggi riguarda appunto Rosario e suo padre che arrivati su un'altura vedono dall'alto una città bellissima che è la città di Scicli almeno così appare questa città a Rosario che la giudica la città più bella del mondo adesso vedremo nel nostro brano mentre il padre rimane più indolente indifferente e disilluso altre coppie sono il piccolo Nardo nato in una famiglia povera cacciato di casa da una madre egoista gira la Sicilia in compagnia del padre ecco ricordate uno dei tratti fondamentali è che tutte queste coppie di personaggi girano in Sicilia passano attraverso tantissime città e non si fermano mai nessuna di esse insomma Nardo sta cercando un posto dove poter vivere poter realizzare suo destino ma non lo trova la terza coppia Gioacchino e Michela è una coppia di sposini in viaggio di nozze che in qualunque locanda si fermino pagano in anticipo il conto e scappano di notte con il desiderio di ritornare nel loro paese e infine l'ultima coppia è quella di Rea Silvia una giovane ragazza che fugge da Milazzo per conoscere il mondo insieme con Odeida che è una prostituta insomma cercano queste quattro coppie di arrivare alla meta del loro cammino ma non ci riescono la stessa Rea Silvia alla fine diventerà prostituta anche anche lei e si alternano in questi viaggi la speranza il desiderio di raggiungere questa città e la paura di non farcela ciascuno fugge dagli ambienti in cui è compromesso per un modo o per un altro cercando una vita più bella una vita migliore ma non sempre riesce a raggiungere questa vita migliore e quindi come abbiamo già detto attraverso questi personaggi incontriamo alcune maschere tipiche se vogliamo della società siciliana i pastori i pupari cioè sono quegli artisti di strada che rappresentavano con i pupi appunto una sorta di marionette le storie dei paladini di Carlo Magno gli sposini le prostitute sono Giacchino e Michela le prostitute sono Rea Silvia ed Odeida è la loro peregrinazione è senza fine è apparentemente senza senso ma proprio il brano che stiamo per leggere noi oggi sembra uno di quelli in cui il senso lo si coglie lo si capisce lo si intuisce perché appunto dicevamo nella prima parte del romanzo la prima coppia è quella del pastore Rosario e di suo padre che percorrono circondati da un greggio di pecore una vallata della Sicilia sud orientale nei dintorni della cittadina di Scicli a pochi chilometri da Modica tra l'altro vi consiglio di visitare la Sicilia sud orientale perché è bellissima tornano da un inverno passato in prossimità del mare e cercano un terreno non coltivato che possa servire da pascolo il ragazzo che si chiama Rosario è felice guarda Scicli come a una città da sogno a una Gerusalemme come leggiamo anche su un blog su un sito il sito Mangialibri ma adesso andiamo a leggere questi brani tratti dai primi capitoli delle città delle città del mondo di Elio Vittorini nel secondo capitolo appunto il momento in cui il momento della scoperta il momento in cui da un'altura provate a immaginare questa fotografia è una di queste alture che compaiono che circondano la bellissima cittadina di Scicli che tra l'altro è stata a scenario di alcune puntate del commissario Montalbano la famosa fiction della Rai ecco arrivati là dall'alto vedono qualcosa di stupendo cioè che affascina immediatamente Rosario mentre lascia indifferente suo padre come dire che di fronte alla bellezza si può essere aperti come il figlio come Rosario appunto o chiusi come il padre perché non ci si aspetta più nulla dalla vita non era un grido d'allarme o che chiedesse aiuto anzi sembrava gioioso addirittura esaltato esultante il grido di Rosario che comincia a dire al padre guarda guarda solo che non dava tregua e l'uomo si affrettò a strapparsi fuori dalla massa delle groppe che lo incalzavano Rosario gridò in risposta Rosario allora praticamente abbiamo detto che questi due sono circondati dalle pecore che sono radunate intorno a loro allora il padre risponde all'incalzare del figlio gridò in risposta a Rosario Rosario con una tonalità con un timbro come a dire perché mi stai disturbando no cosa hai da dirmi di così urgente di così importante fu con voce carica di preoccupazione forse anche perché non vedeva da che parte Rosario si trovasse cioè è allarmato il padre non riesce a capire perché il figlio lo sta chiamando con tanta insistenza eccola lì potevo dirlo richiamare papà babbo ecco il motivo per cui lui sta insistendo tanto perché ha visto la città ed è già subito affascinato da essa l'uomo strinse forte il bastone e raccolse intorno una pietra il padre affronta la realtà sempre sulla difensiva come per proteggersi è dotato di armi rudimentali il bastone e la pietra e quindi teme che ci sia un pericolo teme che il figlio magari gli stia dicendo guarda che c'è un pericolo che si avvicina è subito pronto a colpire il padre capite non è un atteggiamento di chi vuole conoscere il cane era emerso sull'orlo di roccia in un punto poco lontano il cane che ovviamente aiutava i pastori a guidare il greggio abbaiava fitto ma festoso ai cieli al sole saltando e dimenandosi ed egli andò in quella direzione correndo vengo vengo come dire vengo sto arrivando c'è una minaccia ma la pietra la lasciò cadere appena arrivato insomma arriva vicino al figlio la pietra non serve perché la pietra lui pensava che l'avesse richiamato perché c'era un pericolo allora adesso la pietra non serve più a niente e quindi la lascia cadere il volto di rosario si era alzato radioso dinanzi ai suoi piedi dalla roccia che scendeva tra cielo e cielo insieme gli si era aperta dinanzi la città di Shikli ecco si tratta di una cittadina in provincia di Ragusa non lontano dal mare sulle estreme pendici dei monti Iblei all'incrocio di tre valloni festosa di tetti ammucchiati di gazze ladre e di scampanì come dice lo stesso Vittorini in un'altra parte del romanzo con le corone dei santuari sulle teste dei tre valloni con le rampe dei tetti e delle graninate lungo i fianchi delle alture insomma Shikli segue la conformazione irregolare del terreno è una città di gradante con case addossate l'una all'altra e gradinate al posto delle strade e con un gran nero di folla che brulicava entro un polverone di sole giù nel fondo della sua piazza da cui parte e s'allarga verso occidente un ventaglio di pianura Rosario era felice indicandola al padre come se avesse temuto di vederla svanire prima del suo arrivo felice che il padre sia arrivato finalmente come se avesse paura che la città scappasse un clamore si era alzato dalla città insieme a centinaia di gazze e cornacche che avevano lasciato di colpo le rocce sparse tra i tetti il clamore è quello della festa la festa di paese le feste di paese sono sempre osservate da Rosario non solo nel caso di questa città ma anche di altre città con grande stupore con gioia o erano campanili che essi avevano lasciato Rosario e il padre assistono alla scena dall'alto e da lontano comprensibile che non riescono a distinguere bene tutti i particolari certo nella musica ferma al centro del cielo sembrava che scalpitassero anche i metalli di uno scampanio le cornacchie andarono a posarsi in turbini di foglie nere sulle rocce che sovrastavano i quartieri delle pendici battufoli di fumo galleggiavano in faccia balconi zeppi di folla giù tra i luoghi da cui era cominciato il loro volo più avanti nella scia del loro percorso si erano invece palesati zaffiri e ametiste di palloncini che sballottavano e ancora aquiloni che si contorcevano qua e là un secondo un terzo un quarto un quinto tutti con la coda inanellata come il topazio del primo ecco come vedete sta descrivendo qui la festa di paese e tutti quanti che partecipano a questa festa ad esempio con gli aquiloni ripigliando tutti i quota nell'aria questi aquiloni sconvolta dalla raffica di tante ali abbiamo visto prima gli uccelli per esempio che si trovano che affollano il cielo di questa città ora le cornacchie strepitavano affacciate dai cornicioni di roccia erano giunte le detonazioni dei primi batuffoli di fumo cioè sono i fuochi d'artificio e le cornacchie strepitavano altre ne giungevano di altri di altri fuochi e le cornacchie strepitavano ancora esplodevano gradinate esplodevano cancellate esplodevano e si incendiavano schiere di palloni variopinti saliti ad ondolarsi nel cielo e le cornacchie erano sempre là sopra che strepitavano infine accade che esplosero le 50.000 mani della folla di cui brulicava la piazza quindi per esempio si misero tutti ad applaudire quelli che partecipavano a questa festa popolare allora lo strepito delle cornacchie fu anche di fanciulli e di trombette e fischietti che si suonavano e Rosario poteva distinguere su ballatoio in cortili o su pianerottori di scale all'aperto figure che sventolavano un fazzoletto salutando come da un treno dove in gruppi e dove isolate come devono essere contenti in questa città esclamò Rosario ecco un'altra cosa che la colpisce che colpisce che lo colpisce che colpisce Rosario è la festa la gioia di questi cittadini di Scicli come devono essere contenti questo dà modo a Rosario di riflettere su questa cosa è una città bella e i cittadini sono contenti per lui si instaura una corrispondenza bionivoca no se le città sono belle i cittadini sono contenti come quelli di Scicli il padre allora si rialzò e siamo già nel terzo capitolo del romanzo calcandosi in testa il berretto dalla visiera mangiucchiata il suo sguardo passò sopra le pecore che aspettavano cento metri più indietro con i musi posati sul collo l'una dell'altra e il suo piede si avviò ma diede di cozzo nella pietra che gli aveva portata fin là come un'arma e poi lasciata cadere in combinazione il padre urta in ciampa proprio su quella pietra che vi ricordate aveva lasciato cadere perché sembra non servire più a nulla come dire sempre il discorso che facevamo prima è una specie di allegoria questa evidentemente la pietra l'abbiamo vista prima come un simbolo di un'arma di un'ostilità mentale che ha il padre nei confronti di ciò che è nuovo ecco adesso è lui stesso a cadere in ciampare su questa pietra rosario continuava è la più bella città che abbiamo mai vista più di piazza Armerina che si trova un po' più al centro diciamo della Sicilia più di Caltagirone più di Ragusa più di Nicosia e più di Enna sono tutte città che sono appunto tra la provincia di Enna più al centro e quella di Ragusa più ad est il padre non lo negava egli considerava la pietra senza dir nulla e rosario potesse il padre è sempre ripiegato su quella pietra per come dire per zittire il figlio dice sì sì ma non in modo convinto cioè quando il figlio gli dice questa è la città più bella del mondo più bella delle altre belle città comunque che abbiamo incontrato e il padre dice di sì ecco però senza convinzione e rosario potesse aggiungere forse è la più bella di tutte le città del mondo e la gente è contenta nelle città che sono belle ecco la legge la tesi il teorema che esprime rosario la gente è contenta nelle città che sono belle ecco dicevamo la bellezza incide sulla qualità della vita questo è un concetto fondamentale che esprime Vittorini attraverso la voce di questo ragazzino di questo pastorello questo giovane pastore rosario ed è una cosa che potremmo anche pensare di condividere anche noi quando pensiamo ad esempio noi in Italia siamo fortunati che ci sono delle città che mostrano la civiltà di quelli che li hanno costruite il bel progetto diciamo che ha animato quelli che hanno costruito ideato progettato queste città la gente è contenta nelle città che sono belle non ti ricordi dice rosario suo padre che gente contenta c'era nelle belle città che abbiamo girato per la novena dell'altro Natale e che gente contenta c'era a Cattagirone per lo scorso carnevale e che gente contenta c'era a Ragusa per i morti si intende ovviamente per la festa dei morti ad esempio per le superstizioni insomma tradizionali e popolari tra il primo e il due novembre i defunti tornavano nelle case lasciando in dono ai bambini dolci e giocattoli quindi per i bambini era una festa quella dei morti e allora in queste occasioni le città si riempiono di fiere di bancarelle per acquistare i regali così come quando c'era la novena di Natale cioè sono gli ultimi giorni prima di Natale allo stesso modo appunto si comprano i regali per i bambini eccetera e che gente contenta c'era per l'ultima Pasqua che abbiamo passato a Piazza Armerina il padre non negava niente di niente notate qui l'accumularsi di negazioni non negava niente di niente non è che dice di sì ecco semplicemente non nega era solo soprapensiero sempre considerando la pietra ai suoi piedi ricurvo su se stesso e Rosario non si fermò che un attimo poi riprese e si capisce che si accontenta ha belle strade e belle piazze in cui passeggiare ha magnifici abbeveratoi per abbeverarvi le bestie ha belle case per tornarvi la sera e ha tutto il resto che ha ed è bella gente tu lo dici ogni volta che entriamo a Nicosia ma che bella gente e lo stesso ogni volta che entriamo ad Enna anche lì ma che bella gente lo stesso ogni volta che entriamo a Ragusa ma che bella gente e se incontriamo un uomo vecchio tu dici ma che bel vecchio se incontriamo una donna giovane tu ti volti e dici ma che bella giovane vorresti negarlo? ecco cerca un appoggio da parte del padre anche se abbiamo detto che non ne ha molti di appoggio tu dici che deve essere per l'aria buona ma più la città è bella più la gente è bella come se l'aria vi fosse più buona il padre sorrise di sotto i pensieri che gli annuvolavano la fronte e anche mormorò tra quei suoi pensieri può darsi ecco il massimo della risposta che dà o della soddisfazione che dà il padre al figlio è questo può darsi si tratta di un contrapunto ideologico al discorso utopico di rosario fa da contrapunto la sostanziale indifferenza del padre può darsi il suo sguardo tuttavia non si staccava dalla pietra io non vorrei essere nato da una donna brutta come sono le donne delle città brutte di Alimena per esempio che schifo o di Resuttano che schifo di schifo o di Licata che schifo di schifo di schifo fortuna che mia madre era di Aidone e che Aidone non è brutta ma vuole che fosse stata di una città più bella e per questo non mi dispiace troppo che sia morta e che tu sia un vedovo che potrebbe sposarsi un'altra volta e farmi avere un'altra madre in una città come Nicosia o in una come Enna o come questa di Scicli ecco a questo proposito dobbiamo dire che non ci sono solo città belle nella Sicilia ma la Sicilia è un concentrato del mondo allegoria del mondo in questo romanzo e quindi accanto alle città belle ci sono anche le città brutte le città brutte sono abitate da genti cattive evidentemente per terminare insomma il paragone che aveva iniziato prima dicendo che nelle città belle ci sono le persone belle ad esempio loro hanno visitato delle città che sono città zolfare in cui ci sono insomma le miniere e la gente è tutta concentrata sul lavoro e là sono brutte le città e sono brutti anche gli abitanti stavolta il padre non ripetè il suo podarsi allungato lo sguardo di sopra alla spalla egli considerava la testa del ragazzo enorme di una nera massa di capelli come una nidiata nera la considerò con la concentrata attenzione che aveva avuto fino a poco prima per la pietra insomma continua questo dialogo fra i due fino al momento in cui ecco qua dice per esempio ritornando sul discorso l'abbiamo visto siamo alla riga numero 83 84 l'abbiamo visto nei paesi delle zolfare la gente è disgraziata nei posti così non ha nulla di cui rallegrarsi nulla mai che la faccia un po' contenta allora è per forza cattiva è brutta ed è cattiva è sporca ed è cattiva è malata ed è cattiva insomma l'ha detto anche prima l'ha ribadito nelle città brutte la gente è anche cattiva ecco abbiamo visto Alicata come ci vedevano quei brutti ceffi Adalimena Resuttano eccetera continua insomma questo discorso fra i due Rosario disse che la gente delle città belle era anche buona né più né meno come la gente delle città brutte era anche cattiva le città belle cioè avevano anche questo merito di rendere la gente brava e buona no? e gli diceva non ti pare? diceva il padre non negava e non assentiva ecco c'è sempre insomma questa dialettica fra i due egli disse infine della città che avevano sotto gli occhi la città di Scicli a giudicare come era bella bisognava che la gente vi fosse straordinaria egli lo scommetteva ed andò oltre ogni limite di quanto padre e figlio si fossero mai detti per dire della vita straordinaria che si doveva vivere ecco adesso condensato nelle righe da 103 seguenti quelle che sono le caratteristiche di questa città di questa città utopica qui ciascuno deve essere come se fosse un re o un barone cioè ciascuno in questa città deve trovarsi a suo agio come se fosse un principe onorato come un re o un barone con tutti che lo chiamano vos signoria con nessuno che può dargli del tu e trattarlo male con nemmeno il maresciallo che lo possa sgridare e insultare qui fanno riferimento anche da alcune loro esperienze nel corso di questi loro viaggi insomma abbiamo una una trasfigurazione di questa città no in cui ognuno viene trattato con rispetto nella città di Scicli con niente che sia costretto a fare o non fare per paura invitato alle feste di ogni casa accolto dovunque voglia entrare quindi la città perfetta anzitutto è una città in cui è bandita ogni discriminazione sociale è bandita ogni soggezione e paura è in cui ciascuno è accolto accolto dovunque voglia entrare è una città dell'accoglienza con ogni ragazza che lo può prendere per marito anche se è un povero capraio ecco un'altra cosa importante anche un povero capraio può essere sposato una ragazza lo può prendere per marito anche se è un poveraccio e quindi cadono le discriminazioni sociali è una città in cui si realizza il sogno dell'uguaglianza sociale il sogno di una società giusta una società in cui non ci sono più discriminazioni dicevamo e poi con un cavallo che può montare invece ad un asino o ad un mulo proprio come un re che cavalca anche se è solo un contadino che si reca a zappare ecco a questo proposito dovremmo ricordare per antitesi che nei testi che abbiamo letto ad esempio di Giovanni Verga il matrimonio non è un matrimonio d'amore qui si esalta un matrimonio d'amore e per cui una donna si può sposare anche con un poveraccio un povero capraio mentre nei malavoglia Mena non può sposarsi con l'uomo che vuole deve sposarsi con qualcuno che è della sua stessa condizione economica e poi addirittura dopo che la barca della provvidenza affonda non si può più sposare per niente oppure pensiamo ai personaggi del Mastro Don Gesualdo che non si sposano per amore perché Mastro Don Gesualdo sposa Bianca Trao per realizzare il suo salto sociale per diventare un don lui che era nato Mastro cioè era nato Carpentiere come era suo padre vuole diventare un nobile e non sposa Diodata che lui ama e da cui ha dei figli Mastro Don Gesualdo perché Diodata è una poveraccia e da un punto di vista sociale è a lui sottomessa non può essere sua moglie se avesse sposato Diodata non sarebbe diventato un nobile non avrebbe fatto parte di quella schiera ristretta di famiglie come la famiglia dei Trao e lo stesso Bianca Trao non può sposare Nini Rubiera che ama veramente e da qui ha avuto effettivamente ha concepito la figlia Isabella che infatti non si chiama Motta come il suo padre ma Trao di cognome per ricordare la casata della madre ma Bianca non si può sposare con Nini perché è di una nobilità ormai spiantata senza neanche un soldo bucato e la baronessa non può veder sposato il proprio nipote con Bianca Trao ecco qui invece una società in cui ci si sposa si prende per marito anche un povero capraio Rosario non si curava più di trattenere la mano del padre questi perciò aveva potuto ritirarla e ora accadde che l'alzò e si strappò di testa il berretto basta gridò insieme e buttò il berretto per terra tutte queste storie insomma queste utopie questi sogni del figlio l'hanno scocciato lui fino adesso per compiacere il figlio non l'ha mai contraddetto però a un certo punto non ne può più e dice basta ma papà esclamò il ragazzo ma babbo lo guardava con gli occhi pieni di voglia di scoppiare a ridere non riesce a capire il motivo per cui non è contento suo padre lui è contento contentissimo e non riesce a capire invece perché il padre è così sfiduciato ferito umiliato sempre all'erta sempre sulla difensiva è sempre pronto a vedere la realtà come qualcosa di negativo per questo che ha in mano il bastone e la pietra la guardava con gli occhi pieni di voglia di scoppiare a ridere e tuttavia anche un po' sconcertato vedendo che era rosso come quando si arrabbiava sul serio e alla fine l'ultimo pezzo che leggiamo che dice Rosario una città non nasce come un cardo o sono gli angioletti che vengono a posarla su una collina aveva ancora gli occhi che volevano ridere ma la sua voce si alzava sempre di più e diventava stridula disse che dunque non era per combinazione se Enna era la nobile Enna era elicata e era schifosa che diamine disse tutto dipendeva dal modo in cui la gente viveva dove la gente viveva come a Enna si aveva Enna ecco ribadisce in quest'ultima frase l'ultima che noi leggiamo come mai quella città è così bella perché perché la gente vive in un certo modo allora gente buona gente bella allora fa costruisce una città bella no? e dove la gente vive come Alicata le città del Zolfare le città brutte del lavoro si aveva Alicata cioè si aveva una città brutta e gli ripetè in senso inverso il suo discorso di poco prima disse per la gente quello che prima aveva detto per le città dicendo invece per le città quello che prima aveva detto per la gente e così estrae una legge generale dalla sua esperienza in modo induttivo argomenta e dimostra quella che è la sua idea è quella idea che noi abbiamo espresso la verità profonda che è una verità sull'umore e sulla morale delle persone cioè che c'è un rapporto stretto fra l'uomo e l'ambiente in cui vive l'uomo e l'habitat che lui stesso genera che può condurre o verso la felicità la gioia e la bellezza oppure verso l'imbarbarimento e il degrado e qui ovviamente la critica implicita potrebbe essere anche all'urbanizzazione selvaggia che avvenne proprio a partire da quegli anni anni 50 nell'Italia in cui viveva Elio Vittorini e qui